Far funzionare aree di servizio e caselle autostradali con l'elettricità prodotta dal passaggio dei veicoli sull'asfalto. L'Italia, prima al mondo, sperimenta una nuova forma di energia pulita. Ci dice tutto Francesco Di Mario. Si chiama energia cinetica e quella sviluppata da un corpo in movimento, come ad esempio un'automobile. Passando su uno speciale modulo inserito nell'asfalto, il veicolo può attivare un generatore elettromeccanico e produrre l'energia, che poi, attraverso un convertitore elettronico, viene immessa nella rete. Energia sufficiente per ora far funzionare un'area di servizio o un casella autostradale. Con due moduli e il passaggio di 9.000 veicoli al giorno, che è il valore medio, si possono produrre 60 MWh di elettricità all'anno e garantire il fabbisogno di una barriera autostradale come quella di Firenze Ovest, eliminando anche 22 tonnellate di CO2. La sperimentazione attivata da Autostrade per l'Italia in Toscana è la prima al mondo nel suo genere e promette energia pulita e una gestione sostenibile della rete autostradale. In una prossima fase sono previste nuove installazioni per catturare e trasformare l'energia cinetica di auto, camion e bus in decelerazione, che altrimenti verrebbe dissipata in calore ai freni. Dietro questa innovazione c'è il centro di ricerca del gruppo Autostrade e una start-up che ha realizzato l'impianto di generazione.